Vincenzo Marchese Ragona potrà freggiarsi di essere stato il primo canicattinese anche il primo grigentino ad attraversare lo stretto di Messina noto un'esperienza che tu hai scelto di fare perché perché la mattina mi sono alzato detto devo conquistare lo stretto poi è finita che lo stretto ha conquistato me mi sono allenato per due anni di fila anche a mare da maggio noto a mare anche a costo di prendere pure qualche medusa e lasciato il segno e ce l'abbiamo fatta io ce l'ho fatta ho impiegato un'ora e un quarto è andata bene un po per le correnti ho anche allungato il percorso invece di tre chilometri e mezzo almeno sono stati quattro sicuramente però sicuramente una grande gioia appena arrivi dall'altra parte guardi il fondale rivedi nuovamente terra è un'esperienza emozionante veramente che per chi vuole comunque potrei anche consigliarla ecco hai fatto tutto tu con le tue forze non soltanto l'attraversata ma anche l'organizzazione di questo evento sì sì ho organizzato tutto io in un lungo periodo per 20 giorni andare a venire da messina marche da bollo autorizzazione alle capitanerie insomma difficile un'organizzazione molto complessa per via delle ambulanze che devono essere presenti i medici i cronometristi e insomma però ne valsa la pena poco fa hai lanciato un appello magari un po troppo forte per chi si avvicina da poco al nuoto quello di attraversare lo stretto però il nuoto lo dobbiamo sottolineare lo sport uno dei più completi e che va che andrebbe fatto da tutti sì esatto io sono partito da zero quando iniziato a nuotare non si può fare neanche mezza vasca adesso minimo faccio tre chilometri per allenamento quindi la mia gioia sarebbe quella di dare l'esempio e fare in modo che anche altri possano avvicinarsi a questo e per chi voglia per chi mi conosce vuole fare questa stessa cosa può anche venirlo a chiedere me sicuramente sarà più facile dopo che l'ho affrontato io